ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su metro sim hostel un gioco davvero molto particolare perché è un simulatore di vita dove noi siamo dei diciamo macchinisti della metropolitana ma contestualmente dobbiamo anche diciamo gestire tutta la nostra vita quindi lo andiamo ad avviare subito proviamo per la prima volta insieme in modo da impararlo insieme dovremmo gestire i nostri bisogni come my summer car quindi mangiare e bere il l'igiene pipì insomma e qua in alto vedete i bisogni che sono l'energia la sanità blood devo vedere lo scopriremo che cosa vuol dire nutrizione l'igiene l'idratazione benvenuti a metro simasto allora un gioco che rispetto a my summer car viene aggiornato più spesso infatti questo mese cioè mese scorso scusate a giugno loro avevano messo all'interno del gioco un edificio chiuso con coming soon e poi giugno infatti è arrivato ed è hanno introdotto anche il casino allora usa la metro come nuovo operatore del treno ti sarà data una licenza da novizio con accesso alla linea civica quando tu guadagnerai skill point per il lavoro riceverai un aggiornamento della licenza per sbloccare linee addizionali con tani più veloci e ricompense più grandi ok questo lo sapevo già ve lo avrei detto making a living dopo aver guadagnato un po di soldi puoi usare lo smartphone l'applicazione drifter per affittare un appartamento usa la p per aprire questo ok unit number numero di unità del tuo appartamento è messa nell'elenco dell'ok puoi trovare il tuo appartamento sulla mappa nel tuo smartphone puoi sempre tornare indietro al edificio abbandonato per dormire se non hai un appartamento puoi salvare i tuoi progressi dormendo perfetto playing with loot ok puoi aprire l'inventario col tasto i puoi acquistare item allo store locale puoi anche andare al ristorante e al club che sarebbe una sorta di night ogni item ti avrà un peso che tu dovrai trasportare per salvare peso dovrai per esprimere peso dovrai buttarli se tu affitti un appartamento puoi estorare diciamo mette storare già che mi punzecchiate per questi inglesismi per stipare nel nel frigo o nelle credenze quando incontri un personaggio non giocante un npc nel mondo puoi parlare con loro puoi vendergli oggetti va bene perfetto questa dovrebbe essere la catapecchia dove noi dormiamo credo dovrebbe essere graficamente è carino si nota una certo effetto di sfocamento per quanto ci muoviamo eccolo qua il letto il letto per salvare vorrei capire adesso vabbè col tasto i si aprono le porte usciamo da questa catapecchia apriamo tasto i per vedere l'inventario al momento non abbiamo nulla col tasto p abbiamo lo smartphone possiamo puntare la sveglia ma spettacolo allora siti pizza possiamo venire alla pizza possiamo giocare la lotteria drifter per affittare ok qua in alto vediamo i soldi è l'una e 35 ok la metro ok e qua vediamo il nostro livello novizio ok qua ci spiega come guidare la metro ma va bene phone a possiamo chiamare qualcuno 911 non so ok possiamo dipingere le pareti settings possiamo scegliere lo sfondo del telefono la mappa ok è una mappa è una via con due traverse e dobbiamo andare allora siamo nella quindi usciremo abbiamo vicino il club dobbiamo andare vabbè la clinica con la i sulla via abbiamo la clinica abbiamo il garden park vorrei capire maple house c di fronte gaudi residence è il grattacielo diciamo con tutti gli appartamenti volevo capire il teddies arcade è un gioco una sala giochi che hanno aggiunto appunto che il casino dovrebbe essere quello la metro e sul tasto e scusate che non ho non ho visto la ea ok giriamo a sinistra ok perfetto e se vado sul teddies arcade possiamo vedere ok è una sorta di soltanto di una pubblicità va bene usciamo e andiamo a vedere in che cosa consiste questa città ovviamente questo è un gioco da tenere d'occhio perché verrà aggiornato lo sviluppatore è stato attivissimo perché gli ho scritto mi ha risposto subito dopo cinque minuti mi ha detto mi piacerebbe molto che lo portassi sul canale e allora bene sono onorato possiamo bere possiamo acquistare la cola e così o bere alle fontane della della città che si trovano un po come questa ecco allora siamo usciti e come detto siamo in questa traversa buongiorno ok possiamo parlare degli interessi facciamo fare uno alcol narcotici cibo ok buy sell lui cosa vende è estasi non posso neanche forse neanche pronunciarle queste cose in in youtube quindi allora siamo usciti dovremmo trovare come detto qua la sala giochi dovrebbe esserci ma è chiusa sento casino quindi eccolo qua il the bounce house e il club ok garden park qua ma apre penso now renting ah ok no garden park è un altro locale dove si può c'è un altro affitto diciamo di appartamenti la metro il teddy's arcade è lì ma io tornerei a guardare un attimino la mappa perché allora la metro è e ok ok perfetto premendo la ok buongiorno lei vende qualcosa vende una pizza l'ha comprata troppo grande ok vende un martini e vende un candy bar buongiorno poi vedete che tutti questi posti qua vuoti probabilmente verranno riempiti in questo gioco non si guida tra l'altro vedete quale linee la linea lenta e così via andiamo possiamo fare solo la civic line a blada e ok l'urinating ok ok capito il termine va bene adesso vabbè ci fa vedere l'immagine di un watt a venta carica ok siamo qui adesso e dobbiamo partire che cacchio ma scusate ma io vorrei vedere un attimino come funziona allora departing per partire lascia i freni di parcheggio e aggiusta diciamo regola la tua velocità ok il timer partirà dopo la partenza route panel vabbè proviamoci dai senza troppi allora scusate ma scusate ma ready to depart e dobbiamo mollare il telefono però allora open door alarm cut open door close the door close the door ok emergency brake on ok cosa facciamo andiamo avanti a sapere come si fa change destination ok ok perfetto e vorrei capire scusate che vado nei controlli perché qua vedete tutti i controlli accelerate m e brake scusate che non ho visto spazio ok m parking brake ok togliamo i parking brake dove sono i parking brake open door salarm cut dobbiamo togliere i parking brake parking brake z ok ok levati partiamo è figo next stop door dormon tower ci mancano 40 secondi dobbiamo arrivare e va lenta questa linea però no adesso inizia da prendere 20 secondi per arrivare a dorm cross the corner tower sarà qua la fermata prena per dio ok fermati open doors fermi il parcheggio ok qua c'è il timer ok stop zone no vanno avanti vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti siamo avanti piano non è che siamo stati proprio delle cime ci pagheranno anche poco probabilmente ok stop stop apri le porte no ok siamo fermi ok vedete che stanno salendo i passeggeri 12 tra i giocatori 15 ok 20 26 26 28 29 30 ah ok qua ci indica tutto no non c'è la possibilità di zoomare ma vabbè appena salgono tutti chiudo la porta e ripartiamo ok dovremmo essere a posto porta e chiuse ripartiamo abbiamo 30 secondi adesso abbiamo iniziato a ah dobbiamo rispettare anche i limiti di velocità perché se no ci arrivano le molte ci sono ho visto che ci sono tipo degli auto velox o dei metro velox in questo caso quindi cerchiamo di arrivare in tempo rispettando i limiti di velocità ok oh devo selezionare la nuova destinazione ok iniziamo a frenare un secondo e non ce l'abbiamo fatta ma va bene per cercare di capire dove ci dobbiamo fermare 8 7 6 5 4 3 2 1 stop zone perfetto apri le porte ok stanno salendo e ve la più di 50 dovrebbe darci poi un avviso quando siamo pieni quando quando non c'è più gente perché noi non vediamo che è perfetto arrivato il segnale chi le porte e riparti adesso next stop river del terminal dovrebbe essere no vediamo 20 secondi 40 massimo 16 secondi eccola qui la situazione dovrebbe arrivare adesso diminuisci 10 9 8 7 6 no frena frena ma 20 piedi ci mancano 5 3 2 1 stop zone ok bella porta stiamo andando molto 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 male mi chiedo se scendo dal treno cosa succede se mi riporta nel mio quartiere o meno ma vabbè siamo belli carichi adesso eh non è sicuramente un gioco per tutti bisogna tenerlo d'occhio perché chi come me ha amato my summer car è un gioco che offre dei contenuti ma non sono tantissimi al momento sarà da vedere come verrà portato avanti ma da quanto ho visto finora ehm i sviluppatori stanno dietro anche abbastanza quindi era doveroso per me portarvelo adesso proviamo ho visto che ci giocava anche mike senza nome e anche con un discreto successo quindi cerchiamo di andare un po' più veloci ok stiamo arrivando eh ce l'avremmo anche fatta se non avessi fatto il lungo ma scusate io adesso posso uscire? no exit stay 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 voglio capire se abbiamo guadagnato dei soldi o no non ancora noi proseguiamo allora con la nostra con il nostro percorso ok partiamo oh mierda jasper jasper ok ho sbagliato selezionare adesso è giusto ce l'abbiamo fatta credo in tempo che poi mancano air temperature air speed possiamo attivare anche queste cose headlights parking brake ripartiamo chiudere porte prossima fermata route exit e andiamo no è finita adesso dovrebbe essere finita la linea perchè non gira in cerchio quindi vediamo dove ci porta dovremmo aver finito il turno del lavoro poi non mi è molto chiaro mi sa che non abbiamo proprio degli orari di lavoro ma slow ok e si è finita la linea qua se gli vado addosso ok abbiamo vinto 9 dollari 9 dollari e una birra light ahahah abbiamo guadagnato 68 skill point allora ok ok abbiamo fatto molte per 22 dollari costi di riparazione 0 34 guadagni skill point 18 dollari in bonus e ti mancano 1932 skill point per upgradeare alla licenza B quindi guadagnare di più e fare una linea diversa quindi questo è quanto si può fare al momento abbiamo preso 34 dollari siamo tornati in in città voglio vedere se si può eh affittare un appartamento vediamo se eh abbiamo modo di eh printer setting drifter eccolo qua 200 dollari al giorno 600 dollari per 5 giorni eh mannaggia mannaggia garden gaudi residence eh no non possiamo ancora affittare nulla ci sono anche delle recensioni rent property ok non abbiamo infatti qua vediamo le immagini dei dei posti eh quindi a questo punto abbiamo bisogno di mangiare quindi io direi che possiamo ma non lo so io proverei andare qua e tentare la sorte vincendo qualche soldo e magari provare ad affittarci una casa anche se 200 dollari sono veramente tanti ah no questo è il classico gioco da sala giochi in cui si vince questi no 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 io voglio ah ma che spettacolo voglio provare questo un dollaro eh lancio ma e diciamo che una volta capito più o meno la direzione ho vinto sei ticket scusate cosa posso vincere con sei ticket ah lui mi vende un panino eh ma i ticket li ho presi che spettacolo no qua è chiuso niente mi può vendere un panino per favore quanto lo vende 3 dollari eh dai mi dia un panino che ho fame quindi adesso prendo il panino usa esamina usa quindi la nutrizione è salita l'idratazione no ma mi bevo il birozzo che non dovrebbe curare però l'idratazione infatti mi fa solo offuscare la vista e vabbè poi in rumori molesti ok si esce da qui ovviamente poi una volta che avremo affittato una casa avremo un bagno bello una doccia bella ma adesso ok non si vede un cefola eh sì vabbè non regge proprio niente questo qui però va bene vediamo se riusciamo ad andare a incrementare un pochino i nostri guadagni sfruttando le mie abilità di blackjack anche per quanto ho visto in in quanto ho visto in my summer car vincendo l'appartamento e la macchina scassata vediamo ovviamente andrà approfondito come gioco ma al momento così a prima vista non ha tantissimissimi diciamo contenuti ma salve interessi alcol narcotici sì poi penso che aggiungeranno anche la possibilità di ah vende bottiglie di vino ci saranno anche la possibilità di intraprendere relazioni credo ok qua si gioca ad azzardo ok dai mi faccio giocare si può giocare? ok allora non si vede niente cioè veramente ho dei problemi io o non vedo niente io no no io mi fermo ho perso 25 dollari ah ma quanti soldi ho adesso scusa 3 dollari no non posso più giocare mannaggia ho perso tutto perso tutte le mie grandissime abilità salve lei mi vende invece del gin va bene si può buttare anche dei soldi 5 dollari ma io non mi so fermare troppo a evitare censure vado in bagno perché ho assolutamente bisogno di ehm blood no ecco la v ecco la v ecco la v si fa pipì ma ma non ne ho davvero bisogno eeeh sarebbe carino no voglio capire solo una cosa se è possibile zoomare flashlight f si vabbè ehm vabbè ogni tanto ci sta anche portarvi un gioco abbastanza discutibile ma non è brutto eh perché ho fatto bene eeeh cioè graficamente è carino anche l'idea è anche piuttosto originale guidare la metro e poi fare ovviamente tutto quello che eeeh ruota in questo gioco eeeh sono i contenuti aggiuntivi c'è quello che potete fare fuori dal lavoro al momento non c'è tantissimo nel gioco uscito da poco mhm costa sulle 16 euro eeeh non è male eeeh sarà da vedere come lo porteranno avanti perché ne stanno uscendo veramente a a proprio a pacchi come direbbe Gameplay Channel eeeh di giochi di questo tipo di simulazione c'è anche quello dove dovete andare a a gestire una un po' alla paper please una una dogana e svolgere poi tutta la vita di mantenimento della famiglia e bisogni personali questo fa parte di quelli eeeh spero di avervi portato un gioco che magari può interessarvi eeeh o che magari non da acquistare subito ma da da tenere d'occhio per i mesi a venire ok questo era Metro Sim Hustle fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi ciao 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 ciao